Insigne e Pescara, un matrimonio che evidentemente non si replicherà col fratello di Lorenzo perché Roberto Insigne sembra destinato ormai ad accasarsi al Parma. Nei giorni scorsi anche il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani aveva ammesso l'interesse per l'ex attaccante di Avelleno e Latina su cui però si è fiondata la società giallo-blu, su indicazione del tecnico abruzzese Roberto D'Aversa. Dunque un Insigne bis con la maglia bianca-azzurra non sembra essere più all'orizzonte. Ma il mercato del Delfino non finisce qui, specie sul piano delle uscite, considerata la necessità di Zeman di avere una rosa più ristretta in vista della seconda parte del ritiro. Davide Vitturini è vicino al Carpi in prestito con diritto di riscatto mentre la Lega Pro dovrebbe essere la prossima destinazione degli attaccanti polidori e forte. Sul primo c'è il gradimento e anche qualcosa di più della casertana visto che il Teramo, inizialmente interessato all'ex Arezzo, ha già acquistato Cirofoggia. Ma i falchetti rosso-blu potrebbero fare anche un pensierino su Luca Forte. Il classe 94 vorrebbe rilanciarsi e in campagna potrebbe avere lo spazio giusto per farlo. Ancora in fase di stallo invece le situazioni legate al capitano, l'Edian e Musciai. Ma discorso simile può essere fatto anche per Coda, Stendardo, Brugman, Bruno e Nicastro. Per la questione portiera e Fiorillo ha estimatori in Serie B, Gesena e Salernitana e anche Palermo. E sulla sponda bianca-azzurra sembra essere chiuso da Mirko Pigliacelli. In pochi giorni dunque il Pescara potrebbe subire un profondo dimagrimento della rosa. Per questo sono al lavoro i direttori sportivi, per consegnare all'allenatore un organico che a Palena possa concludere nel migliore dei modi la preparazione. Intanto il giovane terzino Daniel Di Nicola, 21 anni, va in prestito in terza serie alla Virtus Francavilla.